Nel vostro momento siamo qui con la nostra PMS, Marita Torino, allenata da 12 settembre un'altra fine, un'altra fine, un'altra fine, un'altra fine, un'altra fine, un'altra fine e una vittoria con il numero 6, Stefano Asirelli! Sono un'altra fine, un'altra fine, un'altra fine, con noi, con il numero 9, il capitano Marco Emanzevisti! Con il numero 11, Loro Vandazzo! Con il numero 12, Daniele Sampi! Con il numero 13, Valerio Abbaso! Con il numero 15, Bruno Mastro! Con il numero 22, Rona D! Con il numero 25, D. Bauer! Con il numero 31, Lorenzo Cercati! Con il numero 32, Andrea Bianchi! Con il numero 32, questo è Morino! Con il numero 32, un'altra fine, un'altra fine, un'altra fine. Con il numero 32, il numero 31, che ho il numero 72, MILMO! Con il numero 32, Peter! Con lo numero 47, Giovanna Abbaso! Con il numero 38, julio! Con il numero 32,州 Cercati! Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.